buongiorno rispondo alla domanda di un ascoltatore che dopo aver visto la puntata andata in onda ieri mi ha chiesto di spiegare con chiarezza che cosa significa obbligo e di asseverazione e visto di conformità nella pratica intendiamo sempre del super bonus il certificato di asseverazione è un documento rilasciato da un professionista che certifica il possesso di determinati requisiti nel nostro caso è obbligatoria per poter accedere alle detrazioni per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico sarà predisposta da un tecnico abilitato ad esempio un ingegnere termotecnico per quanto invece riguarda gli interventi antisismici sarà a carico dei professionisti che si occupano della progettazione strutturale e del collaudo statico sempre secondo le rispettive competenze il visto di conformità che cos'è il visto di conformità si tratta essenzialmente di un controllo formale svolto dal professionista che consiste in una testazione circa la conformità della documentazione nel nostro caso è necessario il visto per esercitare l'opzione per la cessione del credito o per ottenere lo sconto in fattura ho appena introdotto un argomento e di cui parleremo domani vi aspetto 7 per 4 il magazine multimediale delle marche